L'ente comunale agropolese ha deciso di stanziare dei fondi per aiutare le persone che si trovano in difficoltà. È stato accertato dal piano di zona S8 che i richiedenti si trovano in situazioni economiche gravissime e quindi si è evidenziata la necessità dell'erogazione di questi contributi. Il sindaco Adamo Coppola, anche per l'indisponibilità economica del piano di zona, ha deciso di stanziare una somma pari a 2.700 euro dai quali verrà erogato un contributo economico una tantum a chi richiede aiuto economico in comune, contributo che verrà fornito previo accertamento da parte dell'assistente sociale delle condizioni socio-economiche del richiedente. L'amministrazione quindi, con questo piccolo stanziamento di fondi, si dimostra attenta ai problemi sociali più importanti, come la povertà che può essere combattuta anche con dei piccoli aiuti.